Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento meteo di Antenna 2. È arrivato il generale inverno sul nostro territorio con un deciso abbassamento delle temperature su gran parte della nostra penisola italiana. Sta scendendo la neve un po' su tutta l'Italia, diciamo dal Po verso sud, quindi sull'Emilia Romagna, sull'Abruzzo, tutte le Adriatiche. Pensate che sta nevicando anche in Sicilia e Sardegna. Nella giornata di domani saremo raggiunti da dell'aria decisamente fredda, fa già freddo oggi, è stata una giornata particolarmente fredda in montagna, ma continuerà a seguitare questo flusso di aria fredda proveniente da nord. Domani avremo una bella giornata, con cielo in prevalenza poco parzialmente nuvoloso per velature, talora anche spesse, e farà molto freddo. Ma cosa succederà la prossima settimana? Vedete, questa è un'ipotesi per la giornata di martedì e mercoledì, quando una perturbazione proveniente dall'Atlantico, inserita in un contesto di vortice polare, potrebbe raggiungere il nostro territorio, distribuendo della neve un po' su tutta la nostra regione orobica, soprattutto nella zona della Medio e Bassa Valle Seriana e il Lago di Iseo, con accumuli di neve compresi fra i 4 e i 10 cm di neve. Quindi vi prego di seguire attentamente i prossimi aggiornamenti meteo, perché proprio fra martedì e mercoledì avremo questo episodio nevoso abbastanza significativo sul nostro territorio. E pensate che poi nel corso della settimana arriveranno gelide correnti siberiane a determinare un calo delle temperature un po' su tutto il nostro territorio. Non escludo che fra venerdì e sabato prossimo a Clusone, in caso di neve al suolo, si possa raggiungere anche dei valori termici intorno ai meno 10 gradi. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per domani, che vede una giornata con cielo, abbiamo detto, parzialmente nuvoloso, con stratificazioni medio-alte, quindi delle velature talora spesse sul nostro territorio, farà freddo in Val Camonica, così come sulle nostre zone orobiche. Vedete come lo zero termico sarà intorno ai 900 metri di altitudine, pressione atmosferica ha valori molto bassi, infatti avremo il vortice polare sul nostro territorio, pressione atmosferica a 988 millibar, quasi a segnare un record per la stagione invernale di quest'anno. Ecco, nel corso della giornata avremo qualche annuvolamento, ma di scarsa entità, e seguiterà a far freddo sul nostro territorio. Le massime a Clusone non supereranno i 4-5 gradi sopra lo zero. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Vedete come lunedì ancora una giornata interlocutoria, ancora qualche variabilità, qualche annuvolamento, ma nulla di significativo. Ancora molto freddo, con temperature comprese fra meno 3 e 4 gradi di massima. Ma spostiamo la nostra attenzione alla giornata di martedì, quando questa perturbazione potrebbe raggiungere il nostro territorio. Ad oggi c'è un 50% di probabilità, quindi ancora medio-bassa, che possa essere il nostro territorio investito da questa perturbazione di carattere nevoso, che porterà appunto neve dalle zone orobiche fin nella città di Bergamo, dove nevicherà anche sulla città. Nevicate, quindi indicate sul nostro territorio, temperature comprese fra meno 5 gradi di minima e 0 gradi di massima. Mercoledì, ultime spruzzate di neve, ma avremo un graduale miglioramento del tempo. Attenzione, perché giovedì sarà il gelo a interessare il nostro territorio. Temperature in picchiata libera, arriveranno queste gelide correnti siberiane, che abbasseranno, abbiamo indicato gelo sul nostro territorio, con un'elevata probabilità al 90%, questa previsione. Temperature minime a conclusione fra meno 8 e meno 10 gradi, soprattutto queste temperature, ripeto, verranno raggiunte se la neve sarà al suolo, quindi se accadranno le nevicate nella giornata di martedì, quindi se si verificherà la nostra previsione di neve con la neve al suolo e le giornate serene poi fra giovedì e venerdì porteranno il gelo, meno 8, meno 10 gradi, massime non superiore ai 2-3 gradi e farà ancora freddo nel prossimo fine settimana, ma saremo in compagnia del cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. E quindi ci aspetto una settimana decisamente invernale a tratti gelida. E per il Mettetutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.